Ciao, mi chiamo Marco Barbera e mi occupo di fotografia di nudo artistico da circa tre anni. Nel 2019 decisi di dedicarmi esclusivamente a questa attività e incominciai a promuovermi sui social basandomi sulle strategie di altri fotografi e sulle informazioni che trovavo in giro. Ero pieno di credenza assolutamente sbagliate, avevo una visione degli affari anche molto limitata e di conseguenza non riuscivo a vendere praticamente niente, anche se il prezzo delle mie sessioni era relativamente basso, circa 250 euro. Poi ho conosciuto Luca e Fotelit Lab durante l'estate dello stesso anno, mi sono subito messo a studiare i vari moduli della formazione e nel giro di qualche mese la mia visione e la mia strategia sono state totalmente rivoluzionate. E questo è stato un elemento molto importante per me, perché mi ha permesso di dare una realtà al mio lavoro al di là delle mie fotografie. Con questo aiuto sono stato capace di dare vita a un progetto che sembrava completamente folle e senza nessuna speranza. Ma in realtà c'è un mercato per tutto e con gli attrezzi giusti uno può certamente realizzare qualsiasi cosa. E a tutti gli effetti il Fotelit Lab è una scatola degli attrezzi, molto completa e molto utile. Oggi, dopo aver studiato una buona parte di questo programma, so come muovermi, so come valorizzare il mio lavoro e adesso vendo le mie sessioni a un prezzo 10 volte più alto di prima, ossia almeno a 2.500 euro. Ho le idee molto chiare su quello che devo fare e non ho più bisogno di reinventare la ruota ogni volta che si presenta un nuovo problema. E questo è un aspetto molto importante. Per me è chiaro che non avrei mai riuscito a raggiungere questi livelli senza l'aiuto del Fotelit Lab. Secondo me, ovviamente, è molto importante fare delle buonissime foto, questo è sicuro, ma se uno non sa come venderle, alla fine queste foto servono solo a valorizzare il nostro proprio ego e basta. Pertanto, se vuoi ottenere dei risultati veramente osservabili a medio e lungo termine, non posso fare altro che consigliarti di entrare nel Fotelit Lab, di studiare a fondo questa formazione e soprattutto di metterla in pratica. Ciao!